Con lei vorremmo incominciare a sviluppare qualche tematica a partire dalla sicurezza del consumo del suolo. Certamente, abbiamo cominciato questa esperienza nel 2012 e il momento di forte impatto che c'è stato, che è stato per noi il momento di dire che dovevamo essere protagonisti proprio anche dal punto di vista culturale è stato quello ovviamente del terremoto dell'Emilia Romagna e da allora è cominciato questo percorso fatto assieme alle costruzioni, alle associazioni imprenditoriali alle aziende, ai centri di ricerca e alle università per discutere di tematiche rilevanti, chiave anno per anno nel campo delle costruzioni per cercare di poter dare anche noi il nostro contributo a questa ripresa, così come ci si doveva riprendere da dopo il terremoto, adesso ovviamente il passo deve essere più lungo perché dobbiamo cercare dal nostro contributo la ripresa economica dell'Italia. Come le nuove tecnologie possono aiutare ad abbattere i costi da un lato e dall'altro invece aumentare la durata di queste opere. Esatto e sicuramente quello del patrimonio del costruito in Italia è una grossissima risorsa, un grossissimo portafoglio che l'Italia ha ma si rivela anno per anno sempre un portafoglio estremamente vulnerabile. Vulnerabile perché se non viene adeguatamente tenuto, mantenuto e messo in sicurezza soprattutto nei riguardi delle varie diciamo problematiche, ho citato prima non a caso proprio le problematiche di tipo sismico, diventa un patrimonio ingombrante invece di essere un patrimonio da utilizzarsi. Sicuramente anche al SAIE si vengono portate e discusse e presentate tecnologie che consentono appunto di migliorare la sicurezza degli edifici ma anche poi mantenerne poi la durabilità e quindi progetti e programmi di manutenzione nel tempo e sicuramente le nuove tecnologie ci consentono di fare molto perché ci consentono di intervenire in tempi più rapidi, con costi minori e con un'efficacia provata, finalmente non semplicemente ipotizzata, se queste tecnologie sono state adeguatamente sperimentate, provate nei vari laboratori di ricerca, uno dei quali per esempio è quello che io rappresento. Ecco da quest'anno è obbligatoria la formazione professionale continua per tutti gli appartenenti agli ordini professionali, le iniziative messe in campo secondo lei al momento sono sufficienti? Certamente, io sono convinto che l'aggiornamento professionale sia una cosa fondamentale, quando se ne discute in consessi anche pubblici, faccio sempre questo esempio a posto un po' provocatorio, andreste mai da un dottore che sono 30 anni che non apre un libro? Ovviamente tutti diremmo no, allora come mai andiamo da un ingegnere che magari sono 30 anni che non si aggiorna? È una questione di mentalità, in certi settori ovviamente non siamo, siamo partiti ora, parlo appunto il campo dell'ingegneria e dell'architettura, quindi è un processo che deve partire con il passo giusto perché non può essere neanche solo imposto, se viene imposto ovviamente chi si trova imposto di dover fare ore e ore di formazione da un anno all'altro tenderebbe magari ad aggivarla, non vedeve questa invece come una potenzialità importante non solo per il fruitore del proprio servizio ma anche per aumentare veramente le capacità di se stessi, quindi è uno strumento fondamentale che adesso gradatamente, perché giustamente gli ordini lo stanno applicando gradatamente, è entrato finalmente in quello che è anche proprio il linguaggio, il parlare comune dei professionisti, quindi importantissimo. SAIE con gli ordini nazionali ha organizzato un'iniziativa particolare, si trova delle SAIE Build Academy, sono 35 corsi che hanno già visto 6500 iscritti, come questa iniziativa secondo lei può essere utile e come si spiega un successo del genere? Certamente a prima vista, anche quando se ne parlava all'inizio ci si poteva chiedere, già ormai gli ordini organizzano tanti corsi, funzionerà richiamare in un posto unico tanti ingegneri su tematiche in questo aggiornamento, che è un aggiornamento che deve essere necessariamente diffuso, quello del SAIE Build Academy è un'occasione di un percorso di formazione. Sta avendo un grandissimo successo e sta avendo un grandissimo successo per due motivi, primo perché le tematiche sono state scelte non semplicemente da, chiamiamolo diciamo, docenti universitari o semplicemente da esigenze, diciamo, degli utenti, quindi dei tecnici, ma è stato un dialogo importante e costruttivo tra queste due tipologie di figure che ha portato ad un programma, ad una scelta di temi che sono temi attuali, temi dove gli aspetti di innovazione e di aggiornamento sono importantissimi e devo dire l'anno prossimo saranno anche temi diversi, quindi l'idea è proprio quella che il tecnico trovi qui anno per anno proprio quello che c'è di nuovo che si può appunto, su cui ci si può appunto dover istruire. L'altro aspetto fondamentale è ovviamente la qualità dei relatori. I relatori sono relatori che vengono da tutta Italia, sono esperti nel mondo universitario, nel mondo della ricerca, ma anche nel mondo delle professioni, scelti e proposti proprio da quelli che sono gli ordini professionali. Quindi questo connubio di tematiche centrali e di relatori importanti ha portato a questo successo. Abbiamo parlato di 6.500 iscritti e siamo ancora a un mese ancora da quella che è la manifestazione, quindi ci aspettiamo che il numero addirittura cresca ancora e che forse non si riesca a rispondere alle esigenze di tutti. Come secondo lei una manifestazione del genere può dare il proprio contributo per far riuscire il settore dell'edilizia e più in generale in Italia da questa grave crisi che è ancora a Cittanaglia? Una manifestazione, ma questo il Presidente l'ha capito già qualche anno fa, non può essere più semplicemente una manifestazione espositiva nella quale le aziende portano il proprio personale e i propri stand per gli utenti, ma deve portare contenuti, deve essere diversa anno per anno, deve far sì che il tecnico, ingegnere, architetto, geometra, geologo, chiunque sia, ma anche la persona comune che si interessa, che deve mettere a posto la propria casa, sappia che anno dopo anno troverà qui quello che c'è di nuovo, quello che c'è di nuovo in termini di tecnologie, ma anche in termini di problematiche, in termini di panel di relatore, in termini di discussioni. Quindi proprio una desiderio, vogliamo, diciamo, instaurare in quello che sono gli utenti, quindi i visitatori della fiera, di trovare qui le cose nuove e questo sicuramente aiuterà poi le aziende stesse a trovare quindi delle persone ricettive dal punto di vista dei contenuti, quindi anche di quelle che sono poi le esposizioni di prodotti che vengono poi riportate qua. Quindi vogliamo proprio, possiamo dire in un certo senso, elevare complessivamente il livello della manifestazione, sia dal punto di vista espositivo che appunto dal punto di vista dei contenuti.